No, piove, no, piove Anzi tanto piove Ogni tanto Ogni tanto Ogni anno piove Se ne fate un filmato questo mi pare chiedere il divorzio Meno male Perché se lo chiese lui Io non so che Carcadè 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 Quindi se ti lascia E' meglio perché chiedi più Io chiedo di più Se lo chiedo io Ma insomma Com'è questa charma Ma insomma Non si convince No Può andare Insomma Però pericolosi questi egiziani Ah invadenti Gli egiziani sono invadenti Senti Senti Vai vai Continua con il filmato Hai sentito che ha detto? Non mi ha sentito lui No 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 Gli egiziani sono invadenti Gli uomini Che storia A me non mi ha detto che Mi sono qua io Con tutti E' E' Ma Tu sta a conoscere la persona abbastanza Signora Senti mamma Ma se ti vendessi Tu ci l'essi qua L Che domanda Che è E' 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 Io faccio un investimento E tu dici Ti vendi Ti vendi Ti vendi Ti vendi Ti vendi Ti vendi Non mi vendi Non mi vendi Io vendi lei Mi vendi Ti vendi Ti vendi Ti vendi Dai Per quanti cammelli Andrini Marretti Ti vendi Lo so che lui sta riprendendo Dopo dopo Quando rientra La direttrice Capito Il presidente Nelle nebbie Fai le nebbie Fai le nebbie mamma Fai le nebbie Fai le nebbie Fai le nebbie E' un personaggio tipico Maria Fai le nebbie Fai le nebbie Fai le nebbie Fai le nebbie Le nebbie La basta Pabababibi Efon moving Bobababa Adesso domani lo promettiamo in me A me piace recitare Gelato Grazie a tutti.